Siamo qui sul pullman, stiamo andando al Mise, le aspettative sono quelle di ricevere delle risposte finalmente, dopo circa 40 giorni di silenzio vogliamo avere delle risposte e siamo in attesa di avere anche e soprattutto delle buone notizie. Non abbiamo ancora perso la speranza e il nostro proposito è quello di ricominciare a lavorare il più presto possibile.